Ieri alla domanda se il Governo avesse fatto tutto il possibile per l'Isola d'Ischia, il Commissario Legnini ha detto che semplicemente si è buttata la barca a mare, che si è iniziato a fare qualcosa ma che sicuramente l'impegno non è esaurito. Vediamo il frammento dell'intervista realizzata ieri da Alessia Viviano. Il Commissario ritiene sufficienti gli interventi del Governo oppure ritiene che occorrano più risorse? Ho sempre detto dall'inizio e ribadisco che le risorse messe a disposizione, le norme emanate, costituiscono un avvio, un avvio positivo, sufficiente ma un avvio occorre completare. Quindi c'è ancora tanto da fare, per questo motivo abbiamo preso appuntamento per una breve intervista col Ministro Salvini, lo abbiamo sollecitato sull'impegno che il Governo deve ancora mettere in campo per l'Isola d'Ischia anche nei prossimi decreti. Ad esempio il decreto alluvioni per l'Emilia Romagna può offrire comunque oggettivamente degli spunti emendativi anche per l'Isola d'Ischia che ancora sconta sulla propria pelle il disastro del sisma ma soprattutto dell'alluvione da ultimo. Il Ministro Salvini ci ha risposto in questa breve intervista e soprattutto ha promesso una prossima visita istituzionale presso l'Isola d'Ischia. Vediamo il servizio. Ministro, il popolo di Ischia chiede ancora un impegno da parte del Governo. Qual è la voce del Governo? Noi siamo col cuore, con l'impegno, con la testa, ovviamente in Romagna e in Emilia ma anche a Ischia perché bisogna correre. Si è perso troppo tempo negli anni passati e quindi conto di tornarci presto. Ovviamente domenica sarò a Bologna e poi in Romagna per l'emergenza e la ripartenza, però Ischia era e rimane una priorità. E c'è un filo che collega l'Emilia all'Isola d'Ischia? Sì, bisogna fare di più per tutelare il territorio perché i no, i no, i no, i no qui e i no là poi portano ai disastri. Quindi preferisco i sì. Prevenzione? Assolutamente, sempre.